Quali nomi dare ai tavoli se non c'è un tema preciso del matrimonio? Dubbio che assilla tantissimi sposi. Ciao sposine, oggi parliamo dei nomi da dare ai tavoli perché, come ho detto in un mio video precedente che parlava del tema e dello stile del matrimonio, non è sempre necessario avere un tema se non esiste un tema che rappresenti gli sposi, ma se un matrimonio è senza tema, quando arriva il momento di dare i nomi ai tavoli e non piace l'idea di numerarli, con che criterio si scelgono i nomi dei tavoli? Non è una cosa semplicissima, è un dubbio che vedo che assilla tantissime coppie che quando arriva il momento di dare i nomi mi guardano con occhi sgranati e dicono adesso come li chiamiamo i tavoli? Non abbiamo idea. Vediamo di tirar fuori qualche riflessione insieme. Di solito quando succede questa situazione si va a finire sempre nelle stesse direzioni, o si danno nomi di luoghi e città, o si danno nomi di fiori, nomi di titoli di canzoni, nomi di poeti, però hanno senso nell'insieme, sono veramente cose che vi rappresentano. I luoghi possono rappresentare una coppia che veramente viaggia tantissimo e ha tanto da raccontare, ma altrimenti per tante coppie sinceramente non hanno molto senso. Adesso una delle scelte che vedo che vengono fatte molto spesso sono i valori del matrimonio o le caratteristiche che dovrebbe avere un matrimonio, quindi l'amore, la gioia, la fedeltà, il confronto, il dialogo, la passione, tutti i valori del matrimonio, però anche questo inizia ad essere un po' visto. Cerchiamo di trovare qualcosa di più originale insieme? Non è così difficile, basta riflettere un po' e scegliere dei nomi che parlino o di voi due o dei vostri invitati che sono seduti ai tavoli. Per esempio l'idea dei luoghi non è che sia da scartare in generale, ma se voi riflettete sulla vostra storia probabilmente ci sono dei luoghi che sono veramente tanto importanti per voi, ma per luoghi non intendo una via, una città, intendo per esempio una panchina, la panchina dove il tuo lui ti ha chiesto di sposarla, oppure il giardino dove andate solitamente a fare tante passeggiate, la palestra dove vi siete conosciuti. La vostra storia è costellata di posti importanti, ma non devono essere necessariamente posti grandi, appunto anche una panchina può essere importante per voi. Raccontatela ai vostri invitati. Nel tavolo panchina, quando metterete il segnatavolo al tavolo, dietro spiegate perché avete scelto la panchina. Adesso faccio panchina ovviamente, è un esempio. Che cosa rappresenta per voi? Che momento della vostra storia individua quella specifica panchina? Raccontatevi attraverso dei posti magici per voi. Ma ovviamente non solo i luoghi sono importanti, potrebbero essere interessanti le vostre caratteristiche come persone. Raccontate voi due ai vostri invitati, attraverso i vostri pregi e difetti. Si può trovare un qualcosa di scherzoso abbinando per esempio i difetti dell'uno e dell'altro, oppure i pregi di uno con i difetti dell'altro. Lì diventa importante anche la grafica. Per esempio si potrebbe utilizzare un colore per le caratteristiche, gli aggettivi che riguardano la sposa, un altro colore per gli aggettivi dello sposo e avere per esempio il tavolo romantico-divertente, dove il romantico è lui, la divertente è lei, oppure pigra, stacanovista, dei tavoli appunto dove vi raccontate in maniera divertente attraverso le vostre caratteristiche. E sempre attraverso il segna tavolo o dei segni a posto scritti su cartoncino raccontate perché vi descrivete con quegli aggettivi oppure raccontate degli episodi che riguardano proprio quegli aggettivi con le vostre caratteristiche. È un modo per coinvolgere gli invitati e farvi conoscere anche meglio. Sicuramente una delle cose più belle è quella di riuscire a suscitare delle emozioni e le emozioni si suscitano con il racconto, raccontando la vostra storia. E allora mi è venuto in mente per esempio un tableau de mariage dal titolo Quella volta che, dove ogni tavolo rappresenta un episodio della vostra storia, come quella volta che ci siamo guardati da lontano e abbiamo capito che eravamo la persona giusta, o quella volta che abbiamo riso tutta la notte a crepapelle, o quella volta che ci siamo dati il primo bacio e ogni tavolo diventa un momento della vostra storia che potete raccontare ai vostri invitati. È una cosa molto carina, secondo me anche molto coinvolgente. Ma se non volete parlare di voi potete sempre decidere di parlare di chi è seduto a quel tavolo, quindi dare il nome in funzione di chi sarà seduto lì, ma non farlo in maniera banale, quindi non fare il tavolo amici della sposa, amici dello sposo, trovare un modo originale per raccontare chi è seduto a quel tavolo. Per esempio i luoghi si possono sfruttare in maniera diversa da quella tradizionale. Io faccio un esempio mio personale. Io e le mie amiche del cuore ci siamo conosciute quando eravamo piccoline, facevamo catechismo e cantavamo nel coro in parrocchia e siamo state etichettate da tutti quelli che ci conoscevano come le ragazze di San Girolamo. E poi c'era un altro gruppo che girava sempre nelle zone dove giravamo noi, che invece aveva un suo luogo dove si ritrovava e si chiamavano il Covo Mastini. Tutti li chiamavano così. Sarebbe stato divertente ad un matrimonio, avendo entrambi i gruppi, chiamare i tavoli le ragazze di San Girolamo e il Covo Mastini. Sicuramente se riflettete sui vostri tavoli, su come li avete composti, vi viene in mente un qualcosa che rappresenti in maniera originale quel gruppo. Mi viene in mente un altro esempio personale. I miei cugini, invece di fare il tavolo cugini, avrei potuto chiamare il loro tavolo Montenovo, perché è il luogo dove i miei nonni avevano la casa, dove siamo cresciuti insieme, passando insieme tutte le stati. Ragionate sui gruppi sicuramente, se sarete originali, anche sui gruppi eterogenei, perché non tutti i tavoli hanno dei gruppi omogenei, vi potrà venire in mente qualche cosa di carino e di particolare da utilizzare. Anche se sembrano dei nomi completamente sconnessi, completamente diversi, quindi un luogo e uno sport possono andar bene lo stesso. Vi faccio un esempio. Un tavolo risate a crepapelle, perché in quel tavolo ci sono gli amici con cui ridete sempre, ogni volta che vi vedete, e il tavolo demi-plié, perché a quel tavolo invece sono sedute le compagne di danza della sposa. Quindi sono cose che non hanno apparentemente niente a che fare l'una con l'altra, non deve per forza essere tutti i colori, tutti i luoghi, non devono essere necessariamente omogenei. Possono essere anche nomi bizzarri, purché rappresentino in maniera originale chi è seduto al tavolo. Il tavolo di Marais più divertente, dove ho visto veramente tutti gli invitati sbellicarsi dalle risate mentre lo guardavano, l'ha fatto una mia coppia di sposi, che ha scelto in realtà di descrivere gli invitati in maniera apparentemente banale, nel senso che ad esempio c'erano i colleghi di lavoro. Però siccome gli sposi venivano da due regioni completamente diverse, perché lui abruzzese e lei siciliana hanno scelto di descrivere questi gruppi in dialetto, quindi hanno scritto le definizioni di ogni gruppo nel dialetto siciliano e nel dialetto abruzzese e c'erano gli invitati che se li leggevano tutti, specialmente quando leggevano quelli dell'altra regione che non sapevano pronunciare, che si sbellicavano dalle risate. È stato carinissimo, quindi potete davvero attraverso i nomi dei tavoli trovare un modo di coinvolgere i vostri invitati. È una cosa carinissima. Se invece un'idea originale non vi viene, un modo di descrivere in maniera particolare né voi né i vostri invitati, proprio non vi viene perché non vi scatta la molla, l'idea geniale non arriva, allora meglio i numeri che non sono mai banali, sono chiari per tutti e si possono rappresentare con un bel font scritti in maniera particolare, scritti a mano. Possono comunque essere molto belli, molto raffinati e senza andare a coinvolgere le emozioni. Per non perdere nessuno dei miei consigli iscrivetevi alle news con l'accento sul mio sito anche perché ogni tanto comunico qualche iniziativa particolare. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!